...un ringraziamento prima di entrare nel vivo della serata, è doveroso farlo all'Agenzia Idea Spettacoli di Gianci Cicalò per la collaborazione, vi presento brevemente chi vi farà compagnia Questa sera almeno per la parte strumentale, noi siamo il trio Nodas, arriviamo dal campirano di Oristano Vi presentiamo quelli che sono i principali balli cantati e non della tradizione sarda Vi presento alla mia destra uno dei più grandi suonatori che abbiamo in Sardegna Uno dei suonatori di questo bellissimo strumento, uno dei più antichi che esistono, le Launetas Lui arriva da Cavras, Stefano Pinna Buonasera Alla mia sinistra invece, virtuoso della fisarmonica e dell'organetto Arriva da Silì, Giuliano Armas Vi saluto anch'io, Gian Silvio Pina da Zediani, vi farò compagnia con qualche strofa cantata con la tastiera Vi facciamo ballare subito su Ballittu, tutti in pista A presto un incirienzo di La croca è lei. Ma tornataàng La croca è un acon La crocola che fa L'amministra è un acon Che apravi cadere il suo volo, che ne sugeri non teni nessun loro Che apravi cadere il suo volo, che ne sugeri non teni nessun loro Si negolino, noi non sono, c'è un bonti, non è vero ancora C'è un bonti, non è vero ancora, c'è un bonti, non è vero ancora Grazie, ve lo facciamo ballare, passa i tresi. Grazie mille, bravissimi. Grazie, buonanotte a tutti e a Trusannosu.